A questo lato abbiamo sempre il gruppetto dei piccolini, c'è mister Mancini Francesco e la miss, la nuova mister, Anna Valente, buongiorno, ecco i piccolini, due gruppi, qua le casacche rosse e là c'è le casacche arancioni, c'è un paio di gialle sfornate, sicuramente faranno una partitella fra di loro, i ragazzini.